La guerra in Ucraina rappresenta un autentico disastro umanitario, ma si annunciano anche pericolose ripercussioni di carattere economico. Siamo in compagnia con il dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura, con il quale facciamo proprio un po' il punto rapido sul quadro che si può prospettare, soprattutto partendo dall'import-export con i paesi interessati Ucraina e Russia. In effetti, a dire la verità, l'import-export che il Veneto e l'Italia hanno con i paesi di Ucraina e Russia non è poi così elevato. Verso l'Ucraina importiamo soprattutto mais, a livello nazionale questo incide per circa il 13%, invece verso la Russia importiamo ancora meno di per sé, l'Italia non dovrebbe avere grossi conseguenze e problematiche per quelli che sono i prodotti in arrivo. Potrebbero esserci delle conseguenze invece magari per le esportazioni, perché comunque esportiamo soprattutto verso la Russia, ad esempio il vino e la pasta, però questo non dovrebbe avere delle grosse conseguenze per gli aspetti economici per i nostri paesi e per la nostra regione. Ci sono già delle conseguenze relative ai prezzi? Ecco, questo invece potrebbe essere una conseguenza più impattante perché i prezzi dei cereali soprattutto si creano a livello mondiale, quindi poiché verrà a mancare la produzione russa e ucraina che a livello mondiale incidono con una percentuale abbastanza rilevante di export circa il 14-15% e questo crea tensioni sui mercati, soprattutto le borse e merci di Chicago, sui mercati futures e questo crea degli incrementi di prezzo che già si stanno sentendo anche per poi quelli che sono gli acquisti che l'Italia e il Veneto potranno fare da altri paesi, ad esempio dall'Ungheria che è il principale fornitore di mais nazionale o dalla Francia per quanto riguarda il frumento. In questo caso i prezzi che si saranno incrementati avranno ripercussioni anche sugli acquisti che faranno il nostro paese e la nostra regione. C'è da dire una cosa però, i prezzi sono già incrementati già nell'anno scorso in maniera molto rilevante con incrementi del 30-40% per altre cause. Poi c'è il discorso dell'energia che andrà ad influire non poco e già lo sta facendo sul comparto agricolo. Certamente e qui ovviamente questo riguarda tutto l'aspetto del petrolio e del gas. In questo caso le soluzioni sembrano meno semplici perché per esempio per quanto riguarda i cereali magari produrremo più mais o importeremo da altri paesi e il problema sarà appunto un po' il prezzo ma come dicevo prima era già incrementato nell'anno scorso per altre motivazioni per il crollo della produzione del frumento in Canada o per l'incremento della domanda cinese di mais. Per quanto riguarda gli aspetti energetici questo metterà sicuramente in crisi quei comparti produttivi che hanno un grosso utilizzo di energia quindi per il riscaldamento delle serre per esempio quindi tutta la parte della produzione florovivaistica e orticola o per l'utilizzo di mangimi e per quindi per esempio le stalle e gli allevamenti da carne e da latte che già sono in difficoltà per l'incremento che c'erano già stati nell'anno scorso. Per quanto riguarda l'alimentazione zootecnica quindi ci saranno delle ripercussioni venendo o meno la produzione cerealicola, l'importazione dei cereali da Ucraina e Russia? Sì diciamo che probabilmente l'impatto maggiore sarà proprio per la produzione mangimistica perché le importazioni di frumento e mais che ci sono dall'Ucraina e dalla Russia sono proprio destinate alla produzione principalmente alla produzione di mangimi quindi la produzione di mangimi che già scontavano degli incrementi energetici dell'anno scorso e l'incremento dei prezzi che c'erano stati già l'anno scorso probabilmente sarà quella che subirà gli impatti maggiori con un ulteriore incremento di costi e quindi dei prezzi dei mangimi che verranno prodotti dalle nostre aziende mangimistiche e utilizzati dagli allevamenti poi dopo ovviamente. Grazie. 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 Grazie.